Il Bari torna a vincere in trasferta per 3-0? E torna a giocare come l'inizio di campionato, questo vogliamo vedere il Bari. Così stiamo tutti contenti, tiposi, supertiposi, tiposi dell'ultimo momento, che appogliano lo Stato e 20.000 spettatori, non vengono la volta all'anno. Questo è il Bari che vogliamo vedere e grazie a tutti i giocatori e allenatori. Era una partita da vincere a prescindere, quindi sarebbe stato peccato se avessimo perso punti qui stasera. È stato il minimo indispensabile che si potesse fare, dal mio punto di vista. Signore in campo? È stata una prestazione corale, tutta la difesa si è comprata bene, è stata una squadra solida. È importante che si faccia una prestazione buona a livello di squadra. È stato, ha fatto un buon possesso palla, però è anche vero che l'avversario non è che ci ha creato tanti grossi problemi, per cui io vorrei una squadra un po' più propositiva per le prossime partite, specie quando incontreremo squadre più preparate e impostate meglio, diciamo, con magari anche giocatori di valore superiore. Però nel complesso, voglio dire, l'importante è mantenere il primo posto che fa morale e va bene così. Vittoria del Bari per 3-0, sono con un tifoso della Fidelis Andria, qual è il suo pensiero? Non c'è stata partita, il gap era evidente. Tutta la potenza, la potenzialità del Bari che ha dimostrato di meritare la posizione che occupa. L'Andria, si sapeva, deve difendersi questo campionato così duro e speriamo di riuscire a salvarci. Complimenti al Bari e auguri a tutti i baressi, un saluto. È stato una, diciamo, i punti contano, è stata una buona partita. L'Andria, diciamo, l'ho vista molto sofferente. Comunque andiamo avanti perché gli altri vengano dietro. Sì, questa è una dimostrazione che tutti utili e nessun indispensabile. Oggi ha giocato Papuni e fa gol. A noi quello che interessa è che il Bari vince. Può capitare la partita storta, però i tre punti sono quelli che interessano. Anche domenica sono i buoni, si sono lamentati i tifosi, però alla fine quello che conta è vincere. E basta. Posso chiederti il miglior in campo? Che partita hai visto? Allora, per me il miglior in campo, sono un po' indeciso fra Botta e Antenucci perché sono stati molto aggressivi. No, è un grande Bari, è sempre forza Bari. Chi ti ha impressionato di più di questa squadra? È Antenucci. Sono con un tifoso della fila Elisandria al termine della partita contro il Bari. Qual è la tua impressione su questa gara? La squadra non ha dato il meglio, noi eravamo forti come il Bari a centrocampo e purtroppo ci sono state alcune pedine che non hanno dato il meglio in campo. Non è stato il granché. Posso chiederti un'opinione sul Bari invece? Come l'hai visto? Il Bari è squadra da Serie A ragazzi, comunque calciatori importanti, Antenucci, Botta, centrocampo faceva la differenza. È un Bari almeno da Serie B. È stata una partita quella che ci aspettavamo, erano due forze ben diverse in campo e il Bari ha avuto la meglio. Posso chiederti un'opinione sul Bari? La squadra migliore finora è venuta ad Andria, la squadra che esprime il calcio migliore. Siamo in un bar di Andria al termine della partita, tifosi uniti al termine della gara. C'è un'amicizia storica, amici e non solo, continuiamo, andiamo avanti. Comunque dalla parte nostra sono tre punti importanti e continuiamo così e speriamo in un grande Bari come sempre. È stata una bella partita, forse potevamo dare qualcosina in più al netto dei meriti comunque assoluti del Bari. Speriamo che il Bari salga e noi ci salviamo. Del Bari cosa ti ha impressionato? L'attacco è troppo superiore, troppo forte. Allora, mi dici i nomi dei tuoi calciatori preferiti del Bari? Ridimeli tu. Ghedira. E basta? E botta, come? E botta, sì. E botta, sì.